Perfetto, nuova puntata vi racconto un po' come l'ho conosciuta LinkedIn è un posto fantastico sono riuscito a trovare i lavori di Giulia grazie naturalmente a LinkedIn e mi è piaciuta tantissimo sono poi andato a sbirciarmi tutti i suoi lavori passati ed era una puntata che volevo fare da tantissimo tempo perché nel periodo in cui ormai tutti utilizzano Canva probabilmente il ruolo dell'art director è cambiato tantissimo e oggi abbiamo il piacere di avere Giulia si presenterà naturalmente lei quindi benvenuta la solita prima domanda è sempre presenta di raccontaci chi sei e cosa fai grazie mille allora innanzitutto ciao Giulia sono un art director da circa sette anni e diciamo come hai detto giustamente tu questo lavoro deve essere sempre più difeso anche da un certo punto di vista secondo me e ho un background un po' secondo me un po' particolare diciamo perché ho iniziato la mia carriera nelle agenzie pubblicitarie quindi con un diciamo una strada un pochettino più standard oserei definirla e poi a un certo punto mi sono guardata intorno e ho visto che in realtà il contesto che avevo intorno a me stava cambiando ed era già cambiato molto radicalmente rispetto anche solo a 4-5 anni prima e ho iniziato a guardare alle nuove realtà quindi a posti e luoghi in cui io potessi mettere in pratica alla fine la mia professione e nonostante diciamo farlo con lo stesso job title ma mettere in pratica magari degli aspetti delle sfaccettature che non avevo ancora avuto modo di affrontare in un contesto come quello dell'agenzia pubblicitaria perché diciamo l'art direction in generale il ruolo dell'art director tecnicamente è un ruolo pubblicitario perché è nato in un contesto appunto di advertising ed è quella figura che insieme al copywriter genera e crea delle campagne pubblicitarie dal momento però che ovviamente il mondo attuale che viviamo è molto diverso rispetto a quello degli anni 60, 70, 80 e via dicendo che poi sono diciamo gli anni che hanno generato e dato vita l'advertising un po' come lo conosciamo oggi ovviamente si è evoluto anche lui però appunto il contesto è cambiato molto e anche la figura dell'art director ha iniziato ad adattarsi e diciamo un po' come un fluido a posizionarsi in altri contesti come per esempio quello in cui io sono ora perché appunto lavoro in Will Media e ricopro quel ruolo in una start-up e appunto nonostante io abbia lo stesso job title delle agenzie in cui ho lavorato diciamo nel mio passato quello che faccio quotidianamente è in parte molto diverso e secondo me questa è una sfida ed è anche il motivo per cui quando ero al liceo ho deciso di iniziare una strada del genere facendolo IED io nello specifico ho fatto quella scuola quindi un po' questo è il mio inquadramento diciamo quali sono perché hai detto che è un background naturalmente molto particolare perché arrivi da tutto il mondo delle agenzie ma quali sono le skill che deve avere un art director e soprattutto nello specifico cosa fa? Assolutamente allora secondo me la prima skill che in realtà è quasi più non voglio esagerare con le parole però quasi più un talento è un'impostazione mentale alla fine perché si tratta un po' del modo in cui si affrontano quelli che poi nella professione diventano i brief ma che possono essere un problema o una richiesta diciamo quindi dipende poi molto dal progetto se vogliamo metterla più sulla pratica su cui si lavora però secondo me la skill principale è avere un'impostazione mentale che ti permetta di essere elastico chiaramente poi con l'esperienza e la carriera l'elasticità aumenta però un po' di base secondo me deve esserci essere comunque curiosi in generale sul mondo che sia attorno al di là solo magari dei trend grafici o diciamo più tecnici e operativi ma avere una curiosità un po' diciamo a 360 gradi perché alla fine l'art direction è un po' ovunque potremmo semplificarla dicendo che è un po' l'estetica alla fine la applichiamo nella moda, nel cinema, nella pubblicità nel branding però il concetto di base è sempre quello è come riuscire a rendere visiva un'idea e poi si passa invece alle skills magari un po' più tecniche o diciamo più professionali chiaramente l'art director lavora sempre in gruppo con qualcuno cambiano ovviamente i ruoli in base alle posizioni lavorative all'azienda o all'agenzia in cui si lavora però non è un lavoro che si fa in solitaria quindi essere aperti al confronto avere voglia di confrontarsi sicuramente è una skills diciamo più umana che bisogna avere e poi si va nello specifico invece di quelli che sono più i tecnicismi che anche in questo caso secondo me sono molto cambiati rispetto anche solo a quando ho iniziato a lavorare io che comunque sono ancora abbastanza novellina se vogliamo rispetto a tante altre persone però come dicevi tu prima Giovanni Canva semplificando è uno dei motivi per cui bisogna avere oggi secondo me delle skills tecniche un po' più vario pinte e non solo come poteva essere magari qualche anno fa saper utilizzare i soliti programmi che conosciamo tutti Photoshop, Illustrator e via dicendo ma essere un po' più aperti anche all'art direction che si può fare banalmente sulle applicazioni stesse dove viviamo su Instagram, su TikTok si può mettere art direction ovunque alla fine ok vai Marco vai allora ti faccio una domanda così così andiamo un attimo al noccio della questione allora tu hai detto che è una delle skills ovviamente che hai alcune che hai sono innate no? insomma ci hai raccontato un po' una cosa però volevo chiederti sul tema della creatività no? è una cosa secondo me molto interessante perché si dibatte un po' no? su questa cosa nel senso se è qualcosa che si può allenare tra virgolette o veramente è in alto cioè penso al libro Il Pensiero Laterale voglio dire ne fanno di esempi in realtà cui partite da un punto arrivi a voglio sapere invece il tuo punto di vista nel senso ovviamente la tua esperienza visto che questo fai quotidianamente certo guarda io la penso così ovviamente è il mio pensiero è un po' come gli chef sicuramente si può allenare è qualcosa che si allena si impara ma ci sono anche semplicemente tecniche o più brainstorming fai secondo me più acquisition elasticità impari un metodo poi ci sono i talenti che diventano gli stellati non so come dire che sicuramente anche loro allenano esercitano c'è sempre dietro del lavoro come in tutte le altre professioni però se hai quella scintilla in più sei un po' più avvantaggiato magari puoi fare un pochettino meno fatica che è una cosa che comunque alleni non solo magari con gli atti professionali ma anche col background culturale che nella vita ognuno di noi diciamo mette nella propria saccoccia sono tutti slide indoors in base alle scelte che fai acquisisci o meno delle skills e poi ci sono appunto le attitudini secondo me ognuno di noi ha delle caratteristiche peculiari se le riconosciamo abbiamo qualcuno che ci aiuta a riconoscerle e diciamo alleniamo tutta la nostra professionalità anche in quel senso sicuramente raggiungeremo un certo tipo di obiettivi altrimenti magari rischieremo di concentrarci ad allenare quelle che non sono le nostre attitudini e quindi a sforzarci magari di più per non riuscire ad ottenere gli stessi obiettivi non so questa è una cosa che mi disse una volta una mia docente in università che mi mi colpi molto e infatti la riporto ogni volta che ne ho l'occasione perché ci riconsegna un compito e tutti eravamo un pochettino scioccati perché avevamo tantissime sottolineature rosse che non riconoscevamo di aver fatto come errori diciamo e lei dopo un po' vedendo la perplessità all'interno della classe chiese a tutti ma cosa c'è e qualcuno di noi iniziò a dire ma secondo me questo qui non era un errore non era un errore e lei dopo averci fatto un po' discutere ci disse proprio infatti questi non sono degli errori ho sottolineato i punti in cui secondo me avete manifestato meglio le vostre diciamo caratteristiche più forti cercate nella vita di aumentare queste anziché concentrarvi su quelle che magari avete meno come innate e insomma mi sono presa e ho fatto mia questa cosa e mi ci rivedo e credo che sia vera ecco bella sinceramente infatti è una cosa cioè questo divago un po' perché naturalmente voglio dire pure tu sei sbagliato o meno perché io sono andata a vedere diversi tuoi lavori e poi sono andata a vedere naturalmente ho visto un po' quando sei entrata in Guil e ho visto che hai dato molto del tuo cioè io seguo diversi comunque art director e uno fra tutti forse Pietro Terzini dove lui dice molto del suo in ogni campagna che fa e quanto secondo te quanto l'art director deve mettere del suo all'interno dell'azienda e quanto naturalmente passami il termine deve sottostare naturalmente alle regole del brand perché ho visto che ci sono diversi art director che lavorano in maniera completamente differente anche comunque si adattano molto e cambiano molto il proprio stile allora secondo me qui non sempre è una scelta che si può fare mettiamola così io credo per esempio che anche nei miei lavori ci sia una differenza tra quelli che sono fatti non solo in agenzia o in Guil per esempio ma anche in agenzia rispetto a clienti differenti ci sono quei clienti che sono un po' più coraggiosi hanno più voglia anche loro di sperimentare e ti lasciano fare anche le pazzie magari o ti fanno fare qualcosa che fino a quel momento non era caratteristico e principale nella loro comunicazione ci sono invece quelli che agiscono un pochettino più magari sui loro paletti di sicurezza non so come dire più nella loro comfort zone anche perché magari sono aziende più vecchie più tradizionali con più gerarchie e quindi devi stare molto di più all'interno di un perimetro secondo me è sempre comunque un equilibrio bisogna cioè l'hard direction a meno che uno non l'applica nei progetti personali è allora di libertà completa di fare ciò che si vuole o altrimenti bisogna un pochettino comunque andare incontro al cliente senza perdere diciamo la propria natura però appunto credo che sia sempre un balance tra queste due cose ti faccio una domanda solo per fare un recap diciamo indietro tu eri iniziato in un'agenzia gesto di comunicazione era un'agenzia di stile classico era già quindi carta stampata allora era un'agenzia classica nel senso che comunque era un'agenzia di un gruppo tradizionale con tantissime sedi quindi una cosa abbastanza monolitica mettiamola così era il 2015 quindi secondo me si era un po' a cavallo tra un periodo in cui si iniziava a capire qualcosa e poi quello che è stato l'acceleratore che ci ha portato e ci sta portando alla fine sempre più avanti era un'agenzia tradizionale che però aveva già un reparto un po' che guardava un po' al social e al digital in un modo che oggi definire preistorico è fare un complimento diciamo però per come erano i tempi già qualcosa c'era poi io dopo un anno sono passata in un'altra agenzia invece che era prettamente digital e social e il cambiamento diciamo era molto evidente anche perché nel frattempo comunque erano passati un paio d'anni e quindi ovviamente era cambiato anche il contesto in cui si operava però lì c'era molto più cioè conoscendo meglio quelle piattaforme quei media su cui si lavorava ogni giorno c'era modo di fare cose più creative più divertenti e clienti che lo consentivano infatti questa era la domanda cioè nel senso è cambiato ovviamente anche credo l'approccio anche al tuo mondo di lavorare o comunque in generale diciamo delle agenzie ma perché ti dico questo perché probabilmente in un mondo diciamo che va molto più sui social che è molto più veloce prendere l'attenzione e catturarla in un tempo più breve rispetto a che ne so aprire un giornale che lo leggi con caccio per esempio oppure lo so un billboard cioè comunque è proprio un'altra cosa e quindi la domanda è molto semplice cioè quanto in realtà anche nel tuo lavoro questo cambiamento l'hai sentito e quanto in realtà anche la capacità perché prima hai detto una cosa molto interessante che lavorate in team perché probabilmente serve il copy serve la persona quindi probabilmente l'insieme delle teste riesce a dare quel trigger mentale nella comunicazione e serve ovviamente l'utente che vede quindi anche il tuo lavoro è cambiato molto presumo da questo punto di vista allora sì sicuramente io però faccio già parte di quella generazione per cui diciamo quando io sono entrata in agenzia è andata proprio così c'erano due reparti potevo andare o in uno o in un altro in uno era tradizionale quindi spot in televisione radio billboard carta stampata eccetera e nell'altro invece appunto era il reparto dove poi io ho lavorato c'era già un pochettino più era il dipartimento digitale social quindi non avrei fatto nulla che andasse invece sui media tradizionali e io mi ricordo che al colloquio dissi proprio io mentre sono in metropolitana guardo il telefono quindi ho pochi dubbi su in quale parte andare diciamo e per cui faccio già sono un po' particolare diciamo da questo punto di vista perché non ho una formazione più tradizionale sì ho sempre lavorato in posti che invece erano più digital e social oriented quindi sono un po' strana magari rispetto ad altri però è stata proprio una scelta mia ho fatto l'ultima tappa in un'agenzia prima di Will dove ho detto ok mi manca quella parte un po' più classica comunque lavoravo già da cinque anni ho detto ci sta chiudiamo il pacchetto sono stata lì un anno e poi sono andata in Will quindi diciamo il presente che vivo dimostra com'è andata non so da quell'altra parte quali sono le differenze tra magari i propri lavori chiamiamo tradizionali cioè quindi magari carta stampata e quelli digital perché penso che siano anche i tempi cioè comunque in cui potete lavorare perché penso nel digital sono tempi molto molto serrati sì allora anche qui c'è un po' da distinguere tra le tipologie di campagne nel senso che per esempio c'è stato molto il trend che adesso sta andando a finire ma in realtà secondo me è già anche bello che è finito di quelli che definivamo gli instant e quindi le comunicazioni sui social dove appena succede qualcosa so cito Sanremo perché è finito da poco della situazione allora tutti si fiondano nel parlare di Sanremo o di fatti di attualità di politica qualunque cosa quindi lì sicuramente il tempo la fa da padrone e insieme al tempo quel piccolo trick creativo quell'illuminazione che puoi avere qualche collegamento magari particolare che puoi fare che ti porta a creare poi un contenuto e quelli sicuramente appunto sono diciamo tempo based li definirei mentre invece comunque ci sono campagne digital che non hanno mai lo stesso tempo chiaramente delle campagne più tradizionali perché poi entrano in ballo anche tempi che non dipendono magari dalla creazione stessa della campagna ma dalla messa in onda dall'acquisto degli spazi dalla stampa banalmente quindi ci sono tempi molto più lunghi però ci sono anche delle campagne digital che invece possono essere e sono prodotte con largo anticipo occupando più tempo per la loro produzione perché appunto magari fortunatamente oggi si sta iniziando a capire che il digital non è solo un posto in cui mettere un contenuto che si è fatto e si è creato per andare da un'altra parte e quindi lo metto anche lì ma che invece è forse il mezzo più potente anche solo per tutte le sfaccettature e le possibilità che offre per fare delle campagne che siano veramente integrate anche su quei canali e quindi ci si impiega anche più tempo però dipende sempre dalla campagna se parliamo di diciamo proprio di art direction pubblicitaria e di quel mondo lì ok e ti chiedo cioè non è che ti chiedo prima hai detto una cosa bellissima che tu hai me la sono scritta che il tuo lavoro consiste in una rete revisiva un'idea che è una cosa super come dire simbolica però ecco la domanda che ti faccio ho letto tante volte magari di persone che fanno dei lavori creativi o comunque in generale per esempio anche degli imprenditori se non ricordo male anche Bill Gates fa questa cosa qui cioè quando non riesce a venirne fuori fa delle cose estemporane e in quel momento diviene come un flash è una domanda un po' così nel senso cioè ci sono dei momenti in cui non ti vengono delle idee particolari sei un po' bloccato tipo stile sindrome dello scrittore c'è quindi il foglio bianco che non si riesce a compilare oppure ormai sicuramente nel flow delle tue idee che riesci a che succede come reagisci così torniamo sul tema della creatività di prima allora succede tantissime volte perché nel bene e nel male le idee non sono degli interruttori quindi magari ci sono delle volte in cui le vuoi avere e non le hai o delle volte in cui le hai senza che ti stervano e quindi dici perché ho avuto questa idea esattamente secondo me la cosa che aiuta più di tutto è fare brainstorming con altre persone perché se parliamo ci parliamo addosso non usciremo mai magari da quelle impasse in cui siamo entrati mentre invece quando fai brainstorming e quando soprattutto magari sei fortunato e hai il modo di farlo con qualcuno di illuminato o di particolarmente curioso o che sa tradurre una cosa che magari tu butti sul tavolo perché ti viene in mente in qualcosa di più concreto e riesci a chiudere la tua idea allora lì hai vinto però se ti blocchi io sono della faccio parte diciamo della parrocchia dello steel mind nel senso che a un certo punto dico ok se adesso non mi viene non mi viene anche se prendo a testate il muro rilassiamoci un attimo pensiamo ad altro a un certo punto verrà e molte volte riprendere il pensiero dopo aiuta perché comunque appunto nel mentre hai lasciato diciamo un po' fermentare magari qualche spunto qualche pensiero che prima ti è passato davanti veloce poi si concretizza per cui io adotto questo metodo ah scusa ti viene un'idea magari non so girando per esempio fai per asserire da qualche parte o io uso il telefono ho una nota ho diverse note perché io faccio se ho una pagina diciamo instagram dove faccio dei disegnini molto semplici e che ce l'ho da un paio di anni ed è diventato proprio il mio la mia zona di libertà diciamo perché è un posto che è mio faccio un po' quello che voglio e quindi me la godo quindi ho una nota dedicata a quello e ogni volta che mi viene in mente qualcosa o sento qualcuno che dice qualche frase che mi insomma mi potrebbe poi far venire in mente qualche idea qualche schizzo la segno lì e la stessa cosa invece faccio per le cose in generale ne ho una in questo momento dedicata a Will dove segno tutte le cose che possono essere utili veramente per Will e invece un'altra dove segno le cose ma proprio cose che mi vengono in mente e che poi la maggior parte delle volte rimangono lì in realtà però prima o poi torneranno utili infatti volevo chiederti proprio della pagina Instagram come è nata cioè perché sono andata a vedere e ho detto cosa è una cosa che è completamente diversa dal tuo portfolio cioè l'ho vista proprio come uno spazio di creatività pura assolutamente infatti per me quello è il mio hobby è quello che faccio nel tempo libero quando ho voglia di cazzeggiare se si può dire è nata in realtà in modo molto spontaneo inizialmente ho iniziato a fare facevo dei disegnini su delle foto poi mi sentivo un po' limitata all'idea di dover usare in realtà due mezzi nello stesso momento e mi sembrava una sovrastruttura diciamo e visto che sono sempre stata sia nei posti di lavoro che tra gli amici un po' quella sempre pessimista sempre negativa infatti sempre vestita di nero un po' quello è il mio il mio carattere ho iniziato a dire ok queste però sono le cose che io penso diciamole e con le mie pochissime capacità di disegno perché faccio quello perché è quello so fare ho iniziato a fare questi disegnini che insomma mi stanno portando anche non dico soddisfazioni però è ben seguita comunque tanto seguita bei numeri per me è divertimento puro non poi a noi il colore di sfogo piace infatti giallo sempre no è veramente anche a me ha colpito tanto quella pagina nel senso è molto bella molto bella nel senso che sembra molto stile baschiano cioè nel senso quelle cose semplici che però ti hanno subito mi sento molto onorata anche solo se avessi una del pezzo della tua unghia sarei felice no no come l'ho visto mi è venuta in mente quella cosa lì non lo so perché quindi è un complimento grazie sono molto contenta veramente veramente figa infatti sono quelle cose comunque che poi alla fine sui social vanno che ah sì ormai ho capito replicate duplicate possono andare virali in un lampo per cui è un metodo di comunicazione semplice efficace però super attrattivo alla fine tutti siamo un po' tristi o comunque abbiamo una parte triste bisogna saperla accettare e farci conti diciamo ma poi comunque va in controtendenza con tutte le pagine motivazionali che ultimamente ci stanno tantissimo è giusto è giusto no infatti guarda in quest'ultimo periodo sto leggendo un libro di Mark Manson che è questo blogger americano è un libro super premiato dal New York Times che si intitola l'arte di fare quello che cazzo ti pare e vivere felice e sto trovando un sacco di conferme nel senso che appunto non per forza bisogna fare per tutta la vita dei discorsi motivazionali o peggio sentirseli fare ogni giorno esiste anche sentirsi spaesati sentirsi tristi frustrati e dare voce a queste emozioni e sentimenti fanno parte di noi tanto quanto la felicità anche se sono meno sponsorizzate diciamo hai detto una cosa bellissima scusa non c'entra niente ma la devo dire perché sennò poi mi rimani qui hai detto una cosa vera perché in realtà alla fine forse ne parlavamo anche io già con qualcun altro e il tema è proprio quello che nei social c'è l'idea delle persone è quella di mettere in risalto il migliore aspetto della propria vita c'è tutto quello che non è bello diciamo bello ma non bello dal punto di vista estetico ma bello nel senso che abbia proprio l'accezione di essere positivo in realtà viene tutto nascosto e quindi in realtà secondo me anche riuscire ogni tanto a mettere fuori quell'altro lato di te cioè quello anche un po' magari triste o magari più fragile o magari più sensibile in realtà è una cosa che andrebbe fatta perché è lì che è l'essenza delle persone perché non esiste una persona che è positiva al 100% o che è sempre felice e quindi è una cosa che secondo me intanto va sempre ricordata cioè di non avere paura di essere se stessi tanto non succede niente ma quello è comunque il tre del social va lì cioè lo stiamo vedendo comunque cioè che pian piano no ma infatti per me la vittoria più grande è vedere che sotto i post la gente tagga i propri amici perché mi fa proprio dire vedi alla fine ci sentiamo tutti nello stesso modo che mi sentono e mi dicono la penso anch'io così lo so ritroviamoci qui e insomma deprimiamoci tutti insieme non so come dire no no super no 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 assolutamente ti faccio le ultime tre domande che sono standard parto io richiedendoti se tu dovessi incontrare la te di quando aveva 18 anni cosa le diresti? sicuramente le direi di avere meno paranoie questo sì di sentirsi un po' più sicura perché diciamo l'insicurezza è stata un po' la costante di tutta la mia adolescenza e il lavoro mi ha aiutato molto a tirare fuori la parte un po' più dura perché chiaramente smetti di vivere nella stanza di gomma piuma dove vivi alla fine finché vai a scuola e finché vivi con i genitori sei protetto di avere un po' di scorza in più quello sì bello la scorsa in più torna un po' il discorso che mi ha appena fatto quindi grande invece ti faccio una domanda semplice visto che hai toccato già un libro diciamo se ci sono uno a questo punto più libri che invece un po' come dire sono delle petre miliari che vanno letti perché magari insomma sono utili vuol dire nella vita e qual è magari la tua diciamo la tua lista short list di libri da consigliare allora sempre per stare coerenti con diciamo il mood della vita metto al primo posto il vecchio il mare che anche lì mi ha insegnato molto da quel punto di vista diciamo poi poi ah ho letto un libro molto bello che non so se mettere proprio nella top 3 però ve lo dico perché mi è venuto in mente che è Breve storia del mondo dove insegna appunto in 300 pagine molto semplice tutto quello che noi abbiamo vissuto diciamo ad esseri umani con anche delle chicche tipo di etimologia di alcuni modi di dire parole e cose che sono diventate slang nella vita comune che nascono invece da lì e un altro un altro va ah scusatemi ma devo mettere per forza Harry Potter tutta la saga ok sono cresciuta comunque non posso non metterli l'ho iniziato a 6 anni l'ho finito che ne avevo 19 quindi per forza io sto continuando a ricomprarlo perché poi è una edizione su edizione guarda io abbiamo la casa immersa di Lego perché ovviamente ci piacciono diciamo e tutti ovviamente a tema Harry Potter ormai bisogna frenarsi quando escono i nuovi pacchetti tutti i pezzettini in più per ampliare il castello tremendo ok è stata una super intervista sono davvero contentissimo e grazie per il tuo tempo davvero grazie a voi davvero grazie mille grazie mille anche per me grazie 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 a tutti